Dopo la pausa in campionato, domani sarà Coppa Italia. L'Akragas affronterà in trasferta la Nissa. Si gioca su un campo in terra abbattuta, il Palmintelli. Che gara ti aspetti e soprattutto che Nissa si dovrà aspettare? L'Akragas domani pomeriggio. Come al solito una gara difficile, una gara contro un avversario ferito nell'orgoglio. È chiaro che non dobbiamo fare l'errore di pensare di trovare un avversario sgonfio, un avversario senza motivazione, perché penso proprio sia al contrario. Anche perché ci saranno giocatori che vorranno dimostrare di meritare la piazza, di meritare la maglia. Ripeto, reputo la Nissa una squadra con delle buone individualità. Poi se di collettivo devono migliorare, questo è un altro discorso. Però se ti devi salvare non prendi Di Biase, Ortiz, Lucero e tanti altri. Rimango nella mia opinione. Sappiamo di affrontare un avversario difficile su un campo non al meglio. Però sono convinto che chi sa giocare a calcio lo sa fare in tutte le superfici. Abbiamo preparato la partita come al solito nei minimi dettagli. Quindi siamo pronti per affrontare domani questa partita. Come sta la tua Akragas dopo questa lunga sosta? Proprio lunga no. Diciamo che stiamo giocando subito mercoledì e secondo me è un beneficio. Abbiamo dei giocatori pronti a riversare le proprie energie dentro il rettangolo del gioco. Quindi la squadra sta bene, la squadra è in salute, la squadra vince, la squadra gioca bene. Quindi mentalmente stiamo bene, dobbiamo confermare quelle che sono le nostre qualità. Cercare di migliorare la fase conclusiva che forse è l'unica pecca che abbiamo fino a questo momento. Avete lavorato anche in previsione del ritorno in campionato. Domenica la sfida contro il Castle Dutch in trasferta. Ma sarà un mese di ottobre di grandi sfide per l'Akragas? Guarda, non riesco a pensare mai ad andare oltre a quella che è la partita successiva che ripeto sempre la più difficile. Per ora pensiamo alla Nista e poi le partite verranno da sola.